Grazie 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 Dai Nico Dai Nico pareggia Nico pareggia Dai Nico Dai Messi Dai Nico Sì Grazie 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 Bravo Bravi Grazie 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 Dai Grazie 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 Simone dai cavaleo, dai Simo, domani cadono tresti, dai una stangata, bravo, bravo Simone, domani cadono tresti. vai Ale, 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 Ale lo vedo questa è la sena dai 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 Voi proゲーム! Voi progetto! Vai stand. Guido, è fatto la buona fattata! Sì, sì! Allì! Vai! Qu歌va una parla di varietà! Tu non riesci a fare un attugno! Non ci sono anche qui! Bravo! Bravo! Grazie! Saluto a tutti i genitori. Impressioni, impressioni. Impressioni. Sì, bravi! Impressioni. Il tipo caldo. Nicoletta. Chiama Ansia. Ansia. Io non ti chiamo. Ansia. Il... Si classifica il primo posto. Cisanano! Un attimo di attenzione. Mi penserebbe che tutte le squadre si unissero a fare e facciamo una protetta tipo a segno. Mister e squadra. Anche Mister, grazie! 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 Bravi complimenti a tutti! Grazie! Grazie ancora della partecipazione! Grazie! 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 Grazie!